Non solo sport e street food, ma anche spazio al divertimento, all'intrattenimento con un'intera rassegna di concerti. Ce li racconta Gianluca Meoli tra gli organizzatori della manifestazione. Sì, diciamo che la scelta musicale quest'anno è stata ancora una volta eccellente sui quattro concerti di musica rap. E aprirà Tedua, che è un giovanissimo che del genere trap è in auge e ha fatto in sole due settimane disco di platino. Lo segue un rapper della vecchia scuola, che è Noiz Narcos, anche lui in due settimane ha fatto disco d'oro e in un mese era già disco di platino. Gold School presenteranno il loro album, Brother, quindi per noi motivo sempre di vanto e di grande orgoglio, perché loro hanno accompagnato la prima edizione del Beats da Mariconda fino a Piazza Salerno Capitale. E poi in ultimo la chiusura di Rocco Ant, che è conosciuto da tutti, non solo a Salerno, ma anche sul panorama nazionale per i suoi già tre album incisi, è prossimo al quarto e ci ha detto che ci delizierà con qualche inedito del nuovo album. Quindi davvero una quattro giorni, seppur in maniera ristretta rispetto all'anno scorso, abbiamo cercato comunque di dare la stessa intensità e la stessa capacità di accoglienza per i grandi visitatori. Quindi diamo appuntamento dal 12 luglio in Piazza Salerno Capitale. In un contesto di aggregazione giovanile, con un occhio attento alle famiglie, con noi, l'assessore alle politiche giovanili e innovazioni, Mararita Giordano, sempre presente a iniziative come il Beats Festival. Sì, è una bellissima iniziativa, una iniziativa che ormai è diventata parte integrante dei appuntamenti estivi della città di Salerno, soprattutto un'iniziativa a ingresso libero, voglio ricordarlo, perché forse è una delle poche, se non l'unica, che permette di fruire i propri servizi alla cittadinanza in maniera libera, di ascoltare musica, una quattro giorni di aggregazione, di sport e soprattutto di un divertimento puro e semplice. Con noi Flavio Donato Antonio, presidente dell'associazione Beats Onlus, manifestazione giunta alla sesta edizione. Cosa rappresenta sul territorio questa manifestazione e come nasce soprattutto? Rappresenta una realtà importante ormai confermata e quindi assodata di quello che può essere utile per i giovani, un momento di aggregazione giovanile, sportivo, culturale, è un momento che dedichiamo alla città, perché siamo orgogliosi di portare questa manifestazione in questa città, perché è dove siamo nati e dove vogliamo continuare a farlo. Ci può svelare qualche novità di quest'anno? Allora, le novità di quest'anno sono diverse. Abbiamo sempre il Totorneo 3x3 Playground Italia, che praticamente porta i vincitori alle finali di Riccione, ma avremo un momento importante quello della breakdance, perché avremo un'associazione che gestirà un'area breakdance dedicata ai bambini, che insegnerà ai bambini a giocare, a divertirsi con il ballo da strada. Avremo un ospite molto molto importante rispetto allo sport, ed è sarà Dan Peterson, che nell'ambito di un corso di formazione che terrà qui a Salerno, verrà lì a spiegare come lo sport per lui è stato importante nell'aggregazione sociale. Abbiamo dedicato questa manifestazione quest'anno al territorio, proprio perché vogliamo portare in avanti quello del concetto delle persone, dei nostri giovani che vogliono essere incentivati a esprimere le proprie passioni. Quali obiettivi per il futuro? Sicuramente riconfermarmi nella stagione prossima è il mio primo obiettivo. Lavorare su quelle che sono ancora le mie lacune, data la giovane età, e sicuramente aspirare a Tokyo 2020, che è un obiettivo fondamentale. Cercherò di farcela, diciamo. L'anno scorso già tappai per le universiadi, l'anno prossimo le universiadi quelle campane, ci sarai? No, cercherò di esserci, non so, perché ovviamente ancora non so le varie convocazioni che verranno fatte, però sono nel gruppo, diciamo, sono molto contento che queste universiadi si tengano a Napoli, territorio campano, ed è un motivo di orgoglio per tutti noi. Grazie.